Musica Andrea e E basta basta li ho letti tutti No 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 Valerio siamo un po' pesantini Siamo un po' pesantini ma mi voleva Trollare forse Valerio però Mannaggia lui allora qua andiamo piano Andiamo piano che adesso vi faccio vedere L'LTS che ho Creato e dovete scrivermi Nei commenti se vi piace Allora andiamo 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 occhio Occhio che mi fai Trollare vai 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 Andiamo 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 Mattia sei un po' trollato Lui mi vuole sempre trollare mannaggia A Mattia vai 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 andiamo 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 no 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 Non ci voglio credere mi hanno fatto Saltare raga però c'è ancora La mia moto si che c'è ancora Lasciami la mia moto Via 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 Scappo 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 Via 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 troppe auto Troppe auto troppe auto via 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 Comunque suini versus Novak raga Suini versus Novak Allora dove si può cittare Fatemi Vedere Allora qua Via 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 No Mannaggia lui raga Era in mezzo Mannaggia Nooo No 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 Piano 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 No 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 Via 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 che devo prendere la mia La mia La mia moto La mia moto raga Via 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 Perfetto scappa scappa Via 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 Occhio che mi stanno È un inseguimento Eh sì È un bel Inseguimento Oh Raga Non so Non chiedetemi cosa è successo Mi hanno fatto saltare in aria Io veramente Non so cosa stava succedendo Dobbiamo rifarci Però Mattia È arrivato alle armi Io che lo volevo trollare E lui Mi fa vincere il round Quindi Forza Mattia Uccidi tutti Con questo bel cangiali Occhio occhio che li volevano cittare Ma non si può raga È anti cheat È anti cheat Sapete che mi piace farli anti cheat A me Così che Si gioca al vero e proprio LTS Vediamo dunque Cosa riesce a fare Il nostro Mattia Ok ragazzi Mattia ha ucciso Tutta la squadra avversaria Dunque Round Vincitore Prossimo round Secondo round Ed ora ragazzi Abbiamo le nostre Novak Quindi cerchiamo di arare tutti I nostri avversari Ok Intanto vedo delle volpi Grandissimi che ha il completo Ragazzi mi raccomando Fatelo Inoltre chi vuole giocare all'attività Mi raccomando Trovate Tutto in descrizione Mamma mia Pasqui Mamma mia La prossima volta Che passi così veloce Ti aro Ti aro Assolutamente Tipo così Pasqui Andiamo a uccidere Prima kill Per questo LTS Adesso raga Ne killiamo un altro Ne killiamo un altro Non ci credo Ci siamo Bloccati Su quella rampetta Arcobaleno Raga Spero vi piazza Mi sembrava un'idea Molto molto carina Eccolo qua Mattia Che ci ha fatto vincere il round Un Tommy un po' trollato Oh Chi era quello Mamma mia Raga Mamma mia Andiamo 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 Occhio che qua Stanno andando un po' veloci Occhio che qua Vanno veloci Raga Ok Perfetto L'hanno No 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 Non l'hanno devastato No 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 Neanche per sogno L'hanno devastato Vai No ma ha laggato Ha laggato Ragazzi Ha laggato Alla grande No eh No no Non devi arrivare Ah ok Bravo 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 Valerio Che li tiene lì Belli tranquilli Adesso vediamo se arriva Anche l'altro Oh le Vai 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 Scendi scendi Senza paura C'è qualcuna Oh Fermo 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 Dove vuoi andare Ok L'ha buttato giù Tommy sali Tommy 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 Vieni 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 Sali pure Tommy Ok basta che non mi trolli Perfetto Bravo bravo Tommy Allora dato che noi abbiamo ucciso uno L'altro però è arrivato alle armi Non ci credo raga Mi sa che è arrivato alle armi È arrivato qualcuno là O forse stanno qui sotto Adesso vediamo subito No no è qua sotto È qua sotto Allora attenzione Preoccupiamoci di chi ha la moto ancora Preoccupiamoci di chi ha la moto Perché con la moto possono risalire Quindi vai 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 Sali Sali pure Vediamo se riesce No va di là Va solamente Di là Vediamo Guardalo Guardalo come scappa Ale mamma mia Vieni vieni È arrivato il momento di venire qua eh No Ok ok Però raga Il più pericoloso eh Il più pericoloso Intanto Andrea Vabbè a sto punto Lo trolliamo No 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 Non lo trolliamo Non lo trolliamo per niente Però io voglio stare attento raga A quello che ha la moto A quello che ha la moto Che ci può fregare il round In modo Incredibile Ok arriva da là Arriva da là Vai Novak Vai Novak Un po' Un po' stanco questo Novak Verde Lime Ha un po' la sua età raga Ha la sua età Preso in pieno E lo riduciamo in poltiglia Dov'è 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 Manca Andrea Manca Andrea Che È qui No No l'abbiamo saltato No 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 Ok Mamma mia Matteo l'ha fatto addirittura esplodere Dunque round Vincitore Prossimo round Terzo round E ragazzi abbiamo ancora la nostra BF 400 Dato che stavo pensando che Le volpi Oh Siamo un po' pesantini qua eh Vedo un sacco di volpi raga Guardate quante volpi Mamma mia Aspettate eh Chiamiamo Lester Chiamiamo Lester No 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 fatemi chiamare Lester Raga Mannaggia A te Mattia Mannaggia No no Valerio Che siamo pesanti eh Mamma mia Non riesciamo più ad andare avanti qui Ok prendiamo quell'arancia Allora Me la fate prendere questa Sì Ok ok Vediamo Ok Vedo un Mattia Subito bello trollato Occhio raga Occhio Scusami ma L'ho buttato giù No Non era quella la mia intenzione Non era Propriamente Quella la mia intenzione Comunque adesso dobbiamo andare veloci Veloce 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 Volpe Ok 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 La volpe è patentata raga È la volpe Patentata Occhio 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 Oh 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 Cosa stai facendo No Salvami 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 Perché fai male al mio compagno Mannaggia A te io me ne vado a prendere le armi Così poi Aro tutta la tua squadra Eh Andrialca Voleva trollarci Oh Oh Piano 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 Non ce la fa Andrialca Come stai Via 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 Prendi fuoco Oh 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 che Mamma mia raga Ho avuto paura eh Ho avuto paura raga Non ho parlato Ho avuto paura Respiro Respiro Forte Profondo Respiro Come ho fatto a salire Raga Raga Come ho fatto a salire Ma adesso io ero tutti eh Non mi interessa perché mi volevate trollare raga Mannaggia A voi Che mi volevate Trollare nel mio LTS Dove andi Dove Dove sei È bello sotto qua Ok lo prendiamo dopo Allora prendiamo tutti Una marea di kill Oh Oh c'è un altro con le armi Lo voglio io Lo voglio io Pasqui lo voglio io Voglio un'altra kill Voglio un'altra kill Sono un po' goloso eh Scusatemi raga Sono un po' goloso Quando si tratta Di kill Olè Allora ok Manca uno Manca uno E ci ho pensato Tommy Che è un pro player Con questa bella moto Tre round Tutti e tre vinti Dunque partita Vincitore Ragazzi abbiamo fatto Un LTS Praticamente perfetto La mia squadra È stata veramente Impeccabile Abbiamo vinto tutti E tre i round Siamo arrivati anche Alle armi Non lo so Com'è salito Andrea Alca Me lo spiegherà Poi come ha fatto Perché veramente Non ho capito raga Avete visto anche voi Che ha proprio Scavalcato la porta Non me lo sto ancora Spiegando Ma lo scopriremo Scopriremo Come ha fatto Dunque ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi Se non siete iscritti Attivate la campanellina E noi ci vediamo Al prossimo video Bella Al prossimo video Grazie a tutti.